Tutti ragazzi e benvenuti in questo video del secondo me, allora oggi vi farò vedere una cosa Lego, come vedete, sì, ecco, ok, vi farò vedere una cosa Lego, Technic stavolta, non Lego, ora vi faccio vedere, a primo impatto potrebbe non dirvi niente, guardate, ma se io vi dico che è una cosa che ha quattro braccietti, a cui si può attaccare una ricevente per droni e dei motorini elettrici, cosa esce? Appunto un drone Lego, questo qui infatti è il frame fatto da me per il drone Lego, che ora ancora non farò, però quando avrò sotto mano una ricevente di un drone più un telecomando, qua basta di attaccarci qua sopra la ricevente con delle fascette dell'elettricista, molto semplici, e poi anche i motorini qui, qua, sempre con delle fascette dell'elettricista, voi ce le attaccate praticamente, così ci attaccate il drone, praticamente sempre con le fascette dell'elettricista, come ho detto prima, le inserite qua e attaccate il motorino, e poi una qua sotto e attaccate il motorino, e praticamente questo drone potrà volare, ho fatto questo progetto totalmente a caso, infatti guardate che limpiata che ho fatto, perché c'è, quando si muove, io credo che durante il volo non dia problemi, però può essere che sia problemi, in questo caso c'è da problemi, io ho già fatto una cosa apposta, praticamente, che voi qua ci inserite, ci mettete come una roba, che ho fatto io, che praticamente tiene fermo, più possibile, i bracciali si muovono lo stesso, però un po' meno perché c'è sta roba che tiene fermo, ok ragazzi, appena avrò la mia ricevente per il drone e il radiocomando, lo monterò e vi farò vedere come volerà il mio drone Lego, appena posso, quindi fa tipo 924 anni, quindi vabbè ragazzi, spero di venire qua con questo drone il primo possibile, e niente ragazzi, spero di questo video, se non è stato commentato, se non è stato bello, se non è stato bello, è iniziato a mettere il video la faccio a fare, lo guardatevi iniziato a farvi, se non è 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 nella descrizione, ciao!